Per la tua impresa, scegli tutti i vantaggi economici ed ambientali della riqualificazione energetica. Il nostro relamping illuminotecnico comprende studio di fattibilità, calcolo del risparmio effettivo, installazione plug and play di corpi illuminanti a LED, garanzia su tutti i prodotti, assistenza nel servizio di noleggio operativo e nell'ottenimento dei certificati bianchi. Chiedi un appuntamento col risparmio. Chiama Finar SRL allo 051-6130-101.